Buonasera a tutti, è stato un solito appuntamento del lunedì. Ogni 15 giorni ci troviamo e discutiamo o cerchiamo di affrontare un problema. Oggi affrontiamo uno di attualità, che è quello dell'inquinamento atmosferico, quello che ci attanaglia molto. Prima di tutto devo ringraziare voi ascoltatori che siete numerosi a seguirmi, questo mi fa piacere da una parte, dall'altra per dare un valore aggiunto ancora alla mia trasmissione. Mi costringe nel senso buono ad essere sempre più puntuale e attento alle informazioni che do, nel senso di passarvi tutte le informazioni dove io raccolgo quello che poi vi dico. Oggi, come ho detto, parleremo dell'inquinamento atmosferico. L'altro giorno prego la regia di inviare, di mettere in linea il link che ho mandato ora. E guardiamo assieme a noi, assieme a voi, il 18 febbraio il meteo pubblicava, il 18 febbraio di quest'anno, pubblicava questa foto che poi è passata anche su Rai News 24. È una foto che dimostra la quantità, vedete l'Italia, soprattutto da tutta la pianura padana, l'Italia del nord, è completamente avvolta da una nube di gas, di inquinamento atmosferico. E la dicitura diceva questo, che nelle classifiche sulla peggiore aria respirata, la pianura padana se la gioca con la Polonia e la Bulgaria. Non è la prima volta che questo dato balza le cronache, ma il problema rimane. Ed anzi, è sempre più preoccupante perché, come oramai sappiamo, il tema dell'inquinamento atmosferico si lega a quello della salute e del benessere della popolazione. Dunque, nel bacino del fiume Po, tra Piemonte e Lombardia, se vedete Emilia Romagna e Veneto, si respira aria non, diciamo così, propriamente buona. Sono state analizzate 21 aree urbane nella pianura padana più colpite di Polonia e Bulgaria ed è emerso che in Europa sono quelle a destare più preoccupazione. Uno studio pubblicato dall'Europstat porta alla luce che uno sforamento dei limiti previsti dalle norme europee, abbiamo uno sforamento di 35 volte ogni 100 giorni l'anno. La concentrazione di smog, dunque, diciamo che alle stelle. Se sappiamo poi, se non facciamo il calcolo, che noi respiriamo in media, i nostri polmoni filtrano 28.400 litri d'aria al giorno e che il filtro, cioè i polmoni, sono il filtro che assorbe come una spugna e trattengono quindi le particelle contenute dallo smog e si depositano sui polmoni, su questi filtri e questi poi entrano nell'organismo. I più colpiti sono i bambini, gli anziani, eccetera. Quindi lo smog, questa foto che voi potete vedere non è una foto, quando si parla di inquinamento si vedono le foto della Cina, di Pechino che è piena di smog, per cui siamo, non è Cina, è Italia, è pianura padana e siamo in una coltre in continuazione di smog. Però se ne parla molto, qualcuno cerca di dare delle soluzioni. Io ho letto questi giorni anche articoli apparsi su varie riviste come l'internazionale, dove l'internazionale di questa settimana è l'internazionale numero 1296 del primo marzo di quest'anno, dove si parla dei giovani che si attivano, soprattutto quelli giovani del nord, che si attivano per sensibilizzare i politici, dicono no, i politici a fronte di questo problema. Il fatto fondamentale è questo, come diceva Einstein, non può risolvere il problema chi lo ha creato, cioè con la stessa mentalità di chi lo ha creato, non si può risolvere il problema, per cui posso capire questi giovani che hanno una età bassa, sono minorenni, però appellarsi a quei politici che attuano, quella politica che stiamo vedendo, che risolvono, perché risolvono i problemi dell'inquinamento, mi sembra un po', lasciatemelo dire, un po' poerile, non è così che si risolve, secondo il mio parere, i problemi dell'inquinamento. Altro fatto, bisogna affrontare un po' il problema di come funziona questa società. Questa società ha un meccanismo di funzionamento, non si può dire politici risolvete il problema se questi sono i portavoce e gli apportano gli interessi del capitale, cioè del profitto. Faccio un esempio, come tutti dicono, facciamo le auto elettriche a batteria, è questa la soluzione? Sembrerebbe sì, normalmente. Invece noi ultimi, se non andiamo ad affrontare il problema alla radice, scopriamo che non è la risoluzione del problema le auto elettriche, sono le auto che sono un derivato del modo di produzione individuale, quindi capitalistico del profitto, che è il problema, quindi il problema sottacente, primo, è il sistema che funziona con questo meccanismo, per cui al di là del fatto che non ci sarebbero sufficienti batterie per far andare tutte le auto di questo mondo, ma quante sono, quante sono le auto nel mondo? Allora, in un articolo del 2017 riporta i dati del 2010 e dice che produzione di auto nel mondo, quindi è nel 2010, i dati sono questi, sapete come le case automobilistiche o qualsiasi produttore da sempre con le pinze i propri dati, allora nel 2010 venivano prodotte due auto al secondo e in media nel mondo si producono circa 165 mila auto al giorno, ma sono passati tanti anni da 2010, quindi se noi mettiamo che il mercato chiede una produzione di auto sempre più consistente, per una media di circa un 3% costante registrato negli ultimi anni, fate un po' voi. Allora, per soddisfare quindi le esigenze sempre più dei clienti del mondo, abbiamo detto, si producono circa due esemplari di auto, cioè si fanno due auto al giorno, per un totale stimato nell'agosto di quest'anno, nell'agosto 2017, scusate, di un miliardo, un miliardo e 200 milioni di auto nel mondo. Allora, voi pensate, pensiamo un po' cosa vuol dire due miliardi di auto nel mondo e allora vediamo i dati. Quante auto, che parco auto abbiamo in Italia? In Italia abbiamo questo parco auto, nel 2016 di automobili avevamo circa 38 milioni che giravano, poi dobbiamo mettere i motocicli, gli autobus, il trasporto merci, cioè i camion, quanti camion ci sono che girano? I camion che girano sono 4 milioni e mezzo, più o meno, poi ci sono i veicoli speciali, trattori, eccetera. In pratica nel 2016, che giravano in Italia, insieme di questi mezzi di trasporto, sia persone che cose, erano circa 50 milioni, superavano i 50 milioni di questi mezzi che circolavano in Italia. Viene fuori che c'è un auto, ci sono 625 auto per mille persone. Bene, abbiamo visto il parco auto, vediamo quanto consumano queste auto. Bene, sempre sul link che io vi do e la regia gentilmente mette sempre in onda. Nel 2018 sono stati venduti, attenzione, in Italia, tra benzina, gasolio e GPL per auto, circa 33 milioni e 16 mila tonnellate di carburante. Allora, se noi pensiamo che un quintale di benzina sono 126 litri, una tonnellata sono 12.600 litri, più o meno anche il gasolio si aggira su quella cifra. In pratica arriviamo, grosso modo, un litro più, un litro meno, ad aver bruciato 396 miliardi di litri di gasolio, solo il gasolio, poi questo, ma anche la benzina. Pensate che enorme falò facciamo noi ogni anno. Questo si tramuta in polveri sottili, ma non solo sono le polveri sottili, c'è anche il CO2. E questi dati sono relativi alle auto. Vediamo invece per quanto riguarda i camion. Scusatemi questa citazione, però è fondamentale. Marx, capitale, secondo libro, scrive La circolazione delle merci, ossia il loro effettivo aggirarsi nello spazio, si risolve nel trasporto. Quindi, circolazione delle merci nel trasporto. L'industria dei trasporti costituisce da un lato un ramo di produzione indipendente, quindi una particolare sfera di investimento per il capitale produttivo. dall'altro si distingue per il suo apparire come prolungamento del processo di produzione. Cioè, cosa vuol dire questo? E spero di riuscire a farmi capire. All'interno della fabbrica, normalmente, fino a pochi anni fa, il semilavorato, cioè la materia base che entrava all'interno della fabbrica, passava da un altro reparto, da semilavorato, passava ad un altro reparto per essere lavorato, quindi per un altro reparto per essere lavorato, e alla fine usciva il prodotto finito. Oggi, con il just in time, l'avrete sentito parlare, abbiamo le merci che girano sulle strade, sulle autostrade, e quindi i magazzini sono stati portati lì, quindi per il risparmio di denaro, per cui noi abbiamo semilavorati che da una fabbrica vanno in un'altra fabbrica per la continuazione della produzione, e sono sulle strade. Pensate voi, 4 milioni e mezzo, 5 milioni di camion che girano tutti i giorni portando semilavorati da una parte all'altra, rimaniamo in Italia, ma ormai tutto il mondo è così, perché abbiamo semilavorati nel mondo, come che immenso via vai abbiamo. Faccio un esempio banalissimo, qui io abito nel Basso Piave, ogni settimana parte un camion e un rimorchio, e va in Francia a 20 miglia, dopo 20 miglia, ed è carico di scatoloni per le pizze da asporto, quindi fa un sacco di viaggi, ma basta pensare a, se voi guardate un po' i prodotti da dove vengono, come girano, e quindi quanto spreco di energia. Affrontando questo problema del trasporto delle merci, si parla di logistica, logistica noi adesso intendiamo dire questo trasporto di merci, però logistica deriva dal termine di calcolo, cioè saper fare un calcolo, calcolare i tempi giusti. Infatti chi si è accurato un po' anche il just in time, vede che i viaggi che deve percorrere, il tempo che deve percorrere un semilavorato per arrivare all'interno di un'altra fabbrica, per essere rilavorato, sono tempi addirittura, è un lasco di tempo di 10 minuti di ritardo, perché altrimenti la fabbrica rimarrebbe senza lavoro. E la logistica, quindi questa branca separata, che fa una branca a sé, come dice Marx, della produzione capitalistica, è una fonte, la logistica è una fonte di guadagno, quindi è fatta a sé, però autonomizzata, è una fonte di guadagno. Allora la logistica in Italia, adesso vi do il link, la logistica in Italia quanto vale? La logistica in Italia vale 110 miliardi di euro, pari a circa il 7% del PIL. In particolare il fatturato della contract logistics, o logica contro terzi, quindi questi camion che vanno su e giù, ha sfiorato nell'anno da poco concluso, del 2018, 80 miliardi di euro, in crescita dell'1,1% dopo una brusca frenata registrata nei due anni precedenti. E il dato positivo dovrebbe interessare anche il 2015, su cui si sta a crescita dello 0,9%. Vabbè, quindi abbiamo visto che anche la logistica, quindi con questa logica, ecco l'appello inutile ai politici, la logistica, quindi i camion aumenteranno, anche perché questo sistema non permette che si possa fare, una fabbrica, un opificio, fare la quantità dell'anno precedente, altrimenti sia in perdita, si deve fare sempre di più. Spero non ci siano dei problemi. Continuando nel video, continuando nel nostro video, anche chi, come i politici, poi li sentite tutti i giorni per televisione, quando parlano di aumento della produzione, aumentare la produzione, fare di più, è un aumento dell'inquinamento, perché anche rimanendo nel settore delle auto, anche facendo auto in più, vuol dire le auto sono fatte col ferro, vuol dire estrarre ferro, vuol dire spostarlo da una parte all'altra, vuol dire aumentare l'inquinamento. Che fare allora? Allora, il titolo di questa trasmissione è eliminare il traffico inutile. Ci sono esempi in questa società, già perché io vedo che c'è la possibilità di una società futura, di una società migliore, si possa andare oltre a questo modo dissipativo di produrre e che in fondo ci avvelena e ci uccide tutti. Primo di tutto l'auto privata, va bene, l'auto privata è il motore, il motore a scoppio è un motore dissipativo, il motore a scoppio è un motore che adopera solo il 30% dell'energia per il moto, l'altra lo distrugge per quanto riguarda il riscaldamento, cioè lo dissipa perché produce calore, ma anche la macchina elettrica non è una soluzione. Primo perché, come dicevo prima, la macchina elettrica ha bisogno di un prodotto particolare per costruire le batterie, che è il coltan. Non si trova facilmente in natura, poi perché comunque la batteria accumula dell'energia che poi la deve restituire e di per sé è anche questa una dissipazione, perché non restituisce tutta l'energia a cui viene caricata. E poi se io ricarico le batterie con il metodo di produrre energia come la produciamo adesso, sposto il problema, l'inquinamento da idrocarburi avviene lo stesso se le nostre centrali elettriche vanno a gas, anche a gas, comunque CO2 si fa sempre. Quindi c'è bisogno di una trasformazione completamente delle nostre città, dove le città dovrebbero essere fatte come a raggera, dove le distanze, cioè a cerchi, dove le distanze sono equivalenti per tutti, ma il motore, per esempio, elettrico, ha fatto negli anni addietro, è uno dei motori più studiati, faceva balzare quindi il rendimento delle macchine motrici dal 5% scarso alla macchina carbone e vapore al 95% e più. L'automobile rimaneva schiava della legge termodinamica e il suo rendimento non riusciva storicamente a raggiungere il 30%. Ma perché conviene una soluzione sociale non individuale come l'auto singola? Mentre l'auto elettrica prodotta in modo centralizzato e distribuita in rete prefigura una società organica contro il localismo decentrato del vapore, il motore a combustione interna, cioè il motore che adoperiamo tutti i giorni, non rimane nient'altro che una sostituzione della rumorosa e inquinante carrozza col cavallo, insomma. Mentre le reti sociali di comunicazione, quindi mettere in sociale le cose, non individuale, erano possibili di continui miglioramenti, sono possibili di continui miglioramenti nella loro struttura, quindi nel rendimento generale, l'automobile privata esalta l'individualismo e la dissipazione, oltre che naturalmente all'aumento del caos dovuto al suo muoversi anarchico e scoordinato. Mentre nelle reti sociali è possibile progettare i flussi e costruire modelli matematici in cui un vero e proprio rovesciamento del modo di pensare c'è un progetto, nel caos molecolare del trasporto privato, il massimo livello raggiunto è la dimensione del semaforo o della rotonda per impedire che gli automobilisti si ammazzino e intasino gli incroci. Mentre in una rete sociale è possibile ottimizzare la fruizione del mezzo singolo, lo stesso mezzo consegnato al privato passa un'enorme parte della propria esistenza inutilizzato. Basta vedere chi va a lavorare con l'auto, magari fa 10 km e lo adopera l'auto 20 minuti, poi la lascia lì 8 ore o 9 ore, poi ritorna a casa e l'adopera altri 20 minuti. Quindi quest'auto rimane lì, ha un'auto che costa dai 10 ai 20 mila euro e rimane lì ferma inutilizzata nel parcheggio della fabbrica. Mentre la rete sociale è alimentata e gestita da una struttura altrettanto sociale, il caos molecolare del trasporto privato è alimentato da una serie di servizi privati assolutamente dissipativi, quindi abbiamo i concessionari, i distributori, gli assicuratori, i carrozzieri, i meccanici, i gommisti, le lete auto e via dicendo per ogni auto. La rete sociale minimizza la dissipazione con un piano centrale e con alti rendimenti intrinseci, mentre il movimento molecolare è per sua natura altamente dissipativo. costruire una rete richiede meno energia che costruire elementi separati. L'attrito ferroviario e nave è molto basso. Se portiamo a cento l'attrito dei cuscinetti dell'auto spostata a motore spento, l'attrito stradale è da 2000 a 2200. La manutenzione centralizzata di un grande parco macchine è più efficiente del capillare, servizio, assistenza, clienti, privati, eccetera, eccetera. Questo quindi per quanto riguarda l'auto privata, l'auto privata dovrebbe essere abolita. Per quanto riguarda invece la logistica e poi chiudo, quindi il trasporto delle merci semelavorate da una parte all'altra del mondo, il concetto è che le fabbriche vanno dove c'è bisogno. Le fabbriche non devono essere i lavoratori che vanno alle fabbriche, cioè fanno centinaia, centinaia di chilometri oggi giorno per andare alla fabbrica. La fabbrica va dove serve che quel prodotto venga costruito, ma non solo. Oggi con la tecnologia della stampante 3D che si riesce a fare anche case, si spostano solo le materie prime. La stampante 3D ci può servire per non impiantare fabbriche, ma per risolvere i problemi di quella comunità che ha bisogno. oggi con la concorrenza con questo sistema che funziona così non è possibile attuare questo. Quindi appellarci ai politici perché distribuiscano là dove serve il prodotto finito non è possibile perché oggi abbiamo l'acqua minerale della Sardegna che va in Trentino e in Trentino e dall'acqua del Trentino va in Sicilia. Uno spreco enorme sociale e quindi di inquinamento eccetera. Quindi il traffico inutile va eliminato e ci sono le soluzioni. Io vi invito a leggere questo articolo che delucida molto bene quello che io in sintesi vi ho illustrato e quindi dobbiamo partire dal nocciolo del problema cioè l'abolizione di questo superamento di questo sistema confidando in una cosa fondamentale come dice come diceva un come diceva un biologo un certo Stuart Kaufman affrontando la questione dell'inquinamento partendo dall'origine della vita sulla terra dice questo che cosa possono avere in comune le molecole che si strutturano in complessi autoriproducenti le cellule che si coordinano in organismi pluricellulari gli organismi e addirittura i sistemi economici e politici che cos'è quindi che cos'hanno in comune l'ipotesi di lavoro è che la vita possa sorgere solo al limite fra l'ordine e il caos vicino a una sorta di transizione di fase i sistemi che si trovano in queste condizioni sono quelli che sono meglio in grado di coordinare attività complesse e di evolvere oggi siamo in questa transizione di fase o la superiamo in un modo cioè passando in un'assoluta superiore o ci auto distruggiamo per questa anche per questa trasmissione ho finito questa puntata ho finita vi ringrazio di avermi ascoltato e arrivederci alla prossima puntata ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.